Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati a questo nuovo, nuovissimo tutorial L'attore fai da te! In questi tutorial impareremo come fare l'attore per recitare a casa tua e senza sforzo, con grandi risultati, soltanto con dei piccoli trucchi Andava bene? I trucchetti che vi vorrò insegnare oggi sono come sfruttare la tua capigliatura per fare dei personaggi diversi Vedremo come utilizzando un taglio di capelli come il mio possiamo fare dei personaggi più differenti Ma guardate! Beh figa, questa sera andiamo a fare la penicena! Perfetto ragazzi, facciamo ancora un pezzo e poi ci salutiamo Grazie mille, siete stati grandiosi, fantastici Ehi, ciao ragazzi, sono io, il vostro amico preferito, come state? Fermitevi, questa è una rapina, fare... Cioè a me piacciono gli oasis, i beatles, capito? Britpop Cosa c'è? Dai, sono appena svegliato Ma ti sembra ora? Ma è presto! Benissimo ragazzi, per oggi è tutto Se avete anche voi dei capelli e vi piace fare recitare Mettete dei link qua sotto nei commenti Commentate anche voi con i vostri capelli Ci vediamo alla prossima puntata!